Un imprenditore laziale di origini saccenze, Antonello Sant'Angelo, pronto a coordinare una accordata di operatori turistici non solo di Sciacca ma anche della sua regione per acquisire e gestire insieme alcuni beni del patrimonio termale, in particolare il Grand Hotel. L'iniziativa prende le mosse dalla nostra trasmissione Vesper in cui il presidente dell'associazione Sciacca Turismo, Ezio Bono, fece emergere la disponibilità in tal senso dei gestori di strutture estralberghiere. Sant'Angelo, sempre molto vicino alle vicende di Sciacca, vuole dare un contributo e valutare, incontrando le autorità locali e soprattutto la regione siciliana, se questo percorso, senza finalità di speculazione, possa servire per dare una mano al rilancio delle terme saccenze. Lui stesso si potrebbe fare portavoce nei confronti di tanti altri imprenditori della sua zona, che sono anch'essi di origini siciliane, che nel dopoguerra arrivarono nella zona di Aprilia, formando una nutrita colonia saccenze. Sant'Angelo, ricordiamo quali sono le sue origini saccenzi e di cosa si occupa in questo momento della sua vita nei luoghi dove vive adesso. Io rappresento la seconda generazione di saccenzi che vivono ad Aprilia. La prima generazione è stata quella che ha abbandonato intorno alla metà degli anni 40 le fertili campagne siciliane per seguire il sogno di un nuovo mondo, in qualche maniera, perché Aprilia era una città nuova, adesso quest'anno si avvicina quasi ai 90 anni, quindi rappresento quel tipo di generazione. In questo momento io faccio l'imprenditore, mi occupo di rivendita all'ingrosso di carburanti e di lubrificanti e in più curo gli interessi della famiglia di mia moglie nel campo turistico in un'attività che loro hanno qui su Sabaudia, insomma un campeggio molto importante che sta qui a Sabaudia, quindi curo gli interessi della famiglia di mia moglie. Questo è quello che fare. Molti dei saccenzi che vivono ad Aprilia in territorio mantengono in attelaggio il loro contatto con la città di Sciacca e quindi voi seguite un po' le vicende saccenzi. Come scaturisce questa attenzione nei confronti delle terme e cosa può contenere questo vostro progetto, questa vostra idea che adesso dettaglieremo in particolare? Guardi, la chiusura delle terme impatta molto di più a chi non frequenta Sciacca perché in qualche maniera l'abitudine diventa anche un po' un anestetico, mentre per chi viene uno o due volte l'anno a Sciacca, vedere quelle terme chiuse rappresenta un po' un tonfo al cuore e da questo nasce questa idea che è ancora in fase chiaramente embrionale, ma c'è l'idea di poter recuperare e prendere sotto l'aspetto non speculativo ma di interesse sociale l'albergo delle terme. Io personalmente ho dei ricordi meravigliosi trascorsi in quell'albergo e ho un pezzo di cuore che vive all'interno delle terme quando erano così fiorenti e belle e ben curate e sarebbe un sogno poter recuperare l'albergo delle terme e poter far rivivere quei fasti di un tempo, sarebbe veramente un sogno e siamo pronti anche a dialogare con gli organi istituzionali, chiaramente per primo la regione, ma anche il comune di Sciacca potrebbe farsi parte di la gente per cercare di perorare anche la nostra causa, che non è la nostra causa, non nasce con uno spirito speculatorio, ma nasce con uno spirito di passione e di voglia di fare qualcosa di bello per la città di Sciacca.